Riccardo Crespi, pivot 207 cm, classe 1997, uno dei nuovi acquisti dei New Flying Bors quest'anno. Innanzitutto, come ti stai trovando a Dozzano in questo primo mese che sei qui? In questo momento mi sto trovando molto bene. La squadra è super, l'allenatore è super, il press è super, ci stiamo trovando tutti molto bene insieme. Non abbiamo mai avuto problemi e si è dimostrato anche in campo alla prima, dove siamo riusciti a vincere contro Cesena, una delle squadre che punta a fare grandi cose in questo campionato. Perfetto, parlami un po' di te, hai un soprannome? Un soprannome no, da piccolo mi chiamavano Ricchi, quindi si è un po' attaccato a quello, poi non ho mai avuto niente di troppo particolare come soprannome. Perfetto, numero 33, qui ai Flying nessuno l'ha mai avuto, questa scelta è un tuo numero fortunato? Sì, diciamoli sì, è un numero fortunato, l'ho avuto in America, ho fatto l'ultimo anno di high school lì e mi hanno dato il 33, poi l'ho tenuto a Torino, a Piombino e volevo tenerlo anche a Pavia, solo che me lo hanno rubato perché era già l'unico che hanno confermato, aveva il 33. Ok, un po' di gossip, fidanzato? Sono fidanzato con? Ludovica di Pavia. Alle partite la vediamo o sta a Pavia lei? Alle partite in casa la dovremmo vedere. Bene, allora l'aspettiamo. Tu esattamente vieni da? Io sono nato a Torino e poi trasferito a Manta, in provincia di Cuneo, un paesino di 3.000 abitanti e io mi reputo mantese perché oramai a Torino non vivo più. Perfetto, tu appunto vieni da lontano, sei uno di quelli della squadra che ha inaugurato la foresteria, che da quest'anno è una novità dei New Flying Balls, sei con Favali e Mastrangelo, come ti trovi con loro? Bene, ci stiamo trovando bene, siamo tre ragazzi alquanto tranquilli, non abbiamo problemi in casa, l'abbiamo e quindi tutto va bene. Abbiamo qualche torneo di PlayStation e quindi stiamo molto bene. Hai già qualche anedito da raccontare o forse troppo presto, ci aggiorniamo più avanti? Troppo presto, ho provato a chiedere poi a Favali o a Mastrangelo. Ok, bene, torniamo un attimo al basket giocato. Prima c'è nato Cesena, cosa dire, bene? Molto bene, molto bene. Abbiamo fatto un'ottima partita, l'abbiamo vista brutta nel quarto quarto, però diciamo che siamo riusciti poi a metterla nei virali giusti. A un certo punto avevi perso le speranze o pensavi che si poteva ancora portare a casa? Sinceramente no, in spogliatoio ci eravamo detti tra di noi che loro avrebbero messo più grinta negli ultimi due quarti, quindi di non spaventarci all'idea che quando eravamo sopra più venti se ci raggiungevano di nuovo. La tua prima partita ufficiale qui, hai conosciuto un po' il pubblico di Ozzano, un commento sul pubblico, sul tifo? Super, a me personalmente sono piaciuti un sacco, poi se sono così tutto l'anno giova noi, giova loro e noi ci dà la carica in più per vincere le partite. Siamo ormai alle battute conclusive anche perché c'è coach grandi che ti aspetta per l'allenamento. A proposito di coach, abbiamo un'istituzione nello staff che è il tatto, vediamo sempre che ti parla, ti parla, ti parla. Quante cose ti dice e che cosa ti dice durante il giorno? Mi dice molte cose, varie, dal post, da cosa devo fare fuori a campo, dentro il campo. Una delle cose che mi dice spesso è che da giovane schiacciava due mani molto meglio di me all'indietro e quindi mi sono fatta una ragione ormai. Siamo quindi alla conclusione di questa breve intervista conoscitiva di Riccardo Crespi, poi ti lasciamo andare. Un saluto al pubblico, cosa vuoi dire ai tuoi tifosi? Buonasera a tutti e vi aspettiamo contro Porto Sant'Elpidio il prossimo sabato.